Buffera su Alessio Falsone dopo un video pubblicato sul social X in cui si vede il concorrente del Grande Fratello parlare in codice con Sergio Dottavi Non è la prima volta che capita, anche ieri sera, dopo la diretta della puntata i due sono stati ripresi dalla telecamera a parlare a tavola e compiere dei gesti che poi si sono rivelati un vero e proprio codice per poter parlare senza essere scoperti Ma il pubblico del Grande Fratello è sempre molto attento e ha scovato un altro video in cui si vedono i due parlare a gesti e qualcuno si è anche preso la briga di tradurre il discorso Per questo motivo il concorrente ha finito nella Buffera, anche perché ieri sera, a proposito del discorso delle scarpe nuove, Perla è stata sbuggiardata in diretta dal conduttore Alfonso Signorini Parlando con Greta, la concorrente parlava di Mirko e Alessio paragonandoli a scarpe nuove e vecchie Grande Fratello, decifrato il codice tra Alessio e Sergio Vediamo insieme il piede di Alessio che balla su onde tip-tap e analizziamo Mentre Alessio e Sergio parlano in giardino, nel video si legge l'interpretazione data al loro discorso fatto soprattutto di gesti e versi Alessio parla con Sergio della dinamica con Anita e Perla definendo la teatrina Dice che ci sarebbe doppia fatica a tenere il piede in due scarpe, dovrebbe lavorare due volte Parla costantemente della dinamica Sempre sul video si legge, in questo momento, dopo aver parlato della dinamica, dice a Sergio di ricordarsi di questo segnale, sbattere il piede a terra Entra in casa e appena vede Perla fa il segnale accordato poco prima Nel video si vede Alessio ripetere il segnale in cucina quando rivede Perla e si rivolge a Sergio Io li manderei fuori a calci in culo tutti quanti A parte sta cosa dei piedi, ma sto continuo a parlare a sottintesi monosillabi risatine e mugugno Ma che è? Stessero a casa loro Hanno sfrantumato le palle Poi aspettano pure le due per farsi i cal loro È inconcepibile, è un reality Comunque votiamo Anita, facciamo uscire Greta, smontiamo questo trio Alessio, Sergio e Greta, si legge su social Tra gli utenti c'è anche chi consiglia di inviare il video di Alessio e Sergio a Rebecca Staffelli Che al grande fratello si occupa proprio di mostrare il sentiment dei social e mostrare video che riguardano i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini